Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio e Notizia. La cronaca in primo piano partendo da Mazzara del Vallo nel Trapanese e dai controlli effettuati dai carabinieri nell'ultimo fine settimana. Controlli che hanno portato a sei persone denunciate e quattro segnalate per uso di sostanze stupefacenti. Ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo hanno eseguito una serie di servizi volti al contrasto delle violazioni al codice della strada allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati predatori, denunciando all'autorità giudiziaria sei persone e segnalando alla prefettura di Trapani quattro soggetti per uso personale di una modica quantità di cocaina e hashish. Durante i controlli alla circolazione stradale è stato denunciato un giovane nato a Salemi, sorpreso alla guida di un'autovettura privo della patente perché mai conseguita, con recidiva nel biennio. Uno straniero di 32 anni, invece, all'alto dei carabinieri, era a bordo del proprio veicolo in stato di ebrezza alcolica, come accertato dai militari operanti. Tra i soggetti sottoposti a perquisizione personale e veicolare dai carabinieri, due mazzaresi di 46 e 20 anni sono stati trovati in possesso di coltelli a serramanico e denunciati pertanto per porto di armi o d'oggetti atti a offendere. Un 56enne mazzarese è stato deferito all'autorità giudiziaria perché avrebbe simulato un reato chiamando il 112 per denunciare il furto della propria autovettura, con la quale, pochi minuti prima, non si era fermato all'alto dei carabinieri, i quali, da accertamenti, hanno documentato che fosse proprio lui alla guida in quel momento. Infine, una donna di 34 anni è stata denunciata per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, in quanto avrebbe violato i doveri per la custodia di un bene sequestrato che le era stato affidato. Da Mazzara del Pallo a Siracusa, qui un 33enne è finito in manette, arrestato dai carabinieri, fermato infatti per un controllo, ha minacciato e aggredito gli stessi militari dell'arma. I carabinieri della stazione di Ortigia e della sezione radiomobile di Siracusa, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno tratto in arresto un pregiudicato di 33 anni per resistenza, violenza e minaccia pubblico ufficiale e lesioni personali. L'uomo è stato fermato alla guida di un ciclomotore sprovvisto di casco e dagli ulteriori accertamenti è emerso che il mezzo era aggravato da un provvedimento di sequestro che il conducente stava guidando con patente revocata. All'atto della contestazione delle violazioni, l'uomo ha inveito contro i militari dell'arma, minacciandoli con un coltello, ma è stato immediatamente disarmato e immobilizzato. Il 33enne è stato denunciato altresì per la reiterazione della guida senza patente e per porto di armi o d'oggetti atti a offendere. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso il carcere Cavadonna di Siracusa, così come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea. A Catania, invece, i carabinieri hanno scoperto una base di spaccio in un monolocale nel quartiere di San Cristoforo. Sono scattate le manette per un 29enne, ovvero un pusher, ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. Prosegue l'operato degli uomini della squadra lupi del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania. Numerosi controlli sul territorio della provincia etnea con un'attenzione particolare ai quartieri più densamente popolati e con maggiori problemi di criminalità. Tra le diverse operazioni, i lupi hanno compiuto alcuni colpi mirati per contrastare il traffico di droga e il possesso illegale di armi. Durante uno dei loro numerosi servizi volti a contrastare l'illegalità diffusa, i carabinieri hanno arrestato un catanese di 29 anni con precedenti penali per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spacciarle. I militari dell'arma hanno condotto un'accurata attività d'indagine che ha rivelato che il giovane di 29 anni aveva stabilito un fiorente punto di spaccio in un monolocale al piano terra di un vicolo nel quartiere di San Cristoforo. Qui il sospetto spacciatore accoglieva numerosi clienti a tutte le ore del giorno e della notte. Di conseguenza i carabinieri hanno organizzato un servizio di sorveglianza attorno all'abitazione e dopo diverse ore di osservazione hanno atteso l'opportunità giusta per fare irruzione. Sono entrati in azione quando un potenziale cliente è arrivato e il pusher lo ha accolto sulla soglia di casa. Il fatto che i due si siano intrattenuti a discutere ha dato ai militari l'occasione di intervenire prontamente e di arrestare il 29enne prima che potesse chiudere la porta. All'ingresso del monolocale i carabinieri hanno subito notato l'intenso odore di stupefacenti nell'aria. Questo, unito al comportamento nervoso del giovane, gli ha spinti a procedere con una perquisizione domiciliare. Durante questa operazione gli uomini della squadra Lupi hanno notato un borsello nero su un grande tavolo rotondo nell'ingresso. All'interno hanno trovato 13 bustine di plastica trasparente sigillate contenenti 13 grammi di marijuana oltre a 150 euro in contanti. Sullo stesso tavolo c'erano una busta di plastica trasparente con 6 grammi di marijuana, 58 grammi di hashish e numerose bustine di cellofan suggerendo che la droga fosse pronta per essere confezionata e venduta ai clienti. Inoltre, durante la perquisizione dell'abitazione, i militari dell'arma hanno scoperto una busta in plastica con all'interno 26 grammi di marijuana e una bilancia di precisione perfettamente funzionante su una mensola nel corridoio che conduce alle camere. Alla fine dell'operazione la droga è stata sequestrata per ulteriori analisi di laboratorio mentre il denaro è stato confiscato come provento dell'attività illegale di spaccio. Il pusher è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e ha disposto per lui la detenzione in carcere. Cambiamo argomento, restiamo però nel Catanese. Ad Aci Sant'Antonio, in un cantiere edile, un giovane aveva rubato del materiale per poi provare a rivenderlo online. È stato però beccato dai carabinieri che lo hanno poi denunciato. Vediamo il servizio. I carabinieri di Aci Reale hanno concluso un'operazione di indagine mirata che ha portato alla denuncia di un individuo di 25 anni. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è accusato dei reati di furto aggravato e ricettazione. L'origine di questa vicenda risiede nella segnalazione di un imprenditore edile della zona il quale aveva denunciato il furto di un ancorante chimico di grande valore all'interno di un cantiere di Aci Sant'Antonio. Si tratta di un prodotto di alta qualità utilizzato esclusivamente da professionisti del settore. Ricevuta la denuncia, i carabinieri hanno immediatamente avviato un'indagine approfondita esaminando sia le potenziali attività di ricettazione sul territorio locale che le tracce nel mondo online. Durante l'analisi su internet, gli investigatori hanno scoperto la presenza di un annuncio di vendita del medesimo materiale su un sito web. Agendo sotto copertura, i carabinieri hanno contattato il venditore mostrando un vivo interesse per l'articolo e accordando un appuntamento per procedere all'acquisto. Il giorno concordato, per la consegna, in una piazza del paese, i militari dell'arma hanno avvistato il sospetto di 25 anni il quale aveva un borsone contenente 14 confezioni dell'ancorante chimico identiche a quelle rubate dell'imprenditore con un valore approssimativo di 2.000 euro all'interno del suo veicolo. Al momento dell'identificazione da parte dei carabinieri, il giovane ha ammesso di essere l'autore del furto avvenuto nel cantiere edile e ha restituito tutto il materiale rubato. Successivamente, su disposizione dell'autorità giudiziaria, la merce è stata prontamente restituita al legittimo proprietario, consentendogli di riprendere rapidamente i lavori interrotti a causa del furto. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo ad Acireale, dove si parla di adeguamento liturgico della Basilica Cattedrale Maria Santissima Annunziata. Vediamo di che si tratta nel nostro servizio. Nel cammino della chiesa di Acireale verso l'adeguamento liturgico della Basilica Cattedrale si terrà martedì 5 settembre un incontro per rendere noto e far conoscere alla comunità diocesana il percorso intrapreso in questi anni. La diocesi di Acireale, dopo lo studio di fattibilità, ha avviato l'iter per l'adeguamento liturgico della Cattedrale Maria Santissima Annunziata, seguito dall'alta sorveglianza del Vescovo Raspanti, dell'Ufficio Nazionale CEI dei Beni Culturali Ecclesiastici e di quello diocesano guidato da Don Angelo Milone. Dopo aver svolto incontri di formazione e sensibilizzazione, la diocesi ha indetto lo scorso marzo un concorso che si è svolto in forma gratuita e anonima e ha visto partecipare gruppi di lavoro composti da progettisti, artisti ed esperti in liturgia. Sono stati presentati 24 progetti provenienti da tutta Italia e la Commissione per la valutazione degli stessi ne ha presi in considerazione soltanto 8. I team che rappresentano i progetti selezionati saranno presenti all'incontro di martedì 5 settembre e entro l'anno poi sarà stabilito il progetto vincitore. Giunta quasi a conclusione la delicata fase preliminare, ha dichiarato il Vescovo Antonino Raspanti, ci muoviamo spediti verso i prossimi passi in vista della realizzazione dell'adeguamento liturgico. Si prevede infatti una comunicazione più dettagliata del lavoro alla comunità diocesana e successivamente un confronto tra il gruppo di lavoro vincitore del concorso di idee e gli organi preposti. La verifica dei preliminari, ha aggiunto il Vescovo di Acireale, la predisposizione del progetto e la sua esecuzione sono le basi per il rinnovamento necessario. L'adeguamento di una chiesa è un evento ecclesiale che può rappresentare un'occasione di crescita pastorale e di comunione. La qualità artistica e il rapporto tra la liturgia e la bellezza del Vaticano II saranno rispondenti alla fede del popolo e allo spazio in cui questa si esprime nella storia. Ha concluso Monsignor Aspanti. Parliamo adesso di turismo. Agosto ormai alle spalle è stata una stagione esaltante per la città di Taormina. Siamo questa sera con il nostro opinionista Giovanni Emmi. Una stagione turistica di Taormina è esaltante ma non è tutt'oro quello che luccica. Lei che cosa ne pensa? Non è tutt'oro quello che luccica perché non tanto per la stagione turistica di Taormina che è stata una stagione turistica sicuramente esaltante non solamente per l'incremento del numero dei turisti e quindi un incremento quantitativo ma anche un miglioramento qualitativo nel senso di un flusso turistico di qualità che ha attirato soprattutto dei turisti provenienti dagli Stati Uniti per i motivi che sono riconducibili sostanzialmente una serie televisiva importante che è stata girata a Taormina e che ha attratto questo particolare tipo di turista. C'è stato poi un incremento dovuto al turismo legato alla moda al lusso anche per l'apertura di importanti boutique quindi un turismo che si è caratterizzato per un miglioramento qualitativo un miglioramento qualitativo che non c'è stato invece nel resto della Sicilia la Sicilia resta panalino di coda del turismo italiano e questo lo dicono i dati la Sicilia ha un flusso di presenze turistiche che è poco più alta di un quarto di quella del 3,8 Atice e che quindi si caratterizza per una quantità assolutamente esigua al contrario di come pensano probabilmente molti siciliani e di un'incidenza sul panorama turistico nazionale veramente molto bassa. Cosa dobbiamo fare per migliorare noi siciliani? Migliorare il prodotto turistico e quindi non ragionare solamente in termini di comunicazione e quindi migliorare soprattutto la vivibilità del territorio legata ad alcuni fatti e alcune situazioni che sono legate soprattutto all'ordine alla pulizia, all'organizzazione che sono i fattori caratterizzanti che rendono il turismo un turismo di qualità e rendono il turismo un'opportunità, una proposta interessante anche per alcuni turisti stranieri come quelli che provengono dalla Germania, quelli che provengono dall'Inghilterra, dal nord Europa o quelli che provengono dai paesi anglosassoni più importanti quindi un turismo che deve puntare su queste cose Cosa vuol dire a Taormina? Quali sono i consigli che vuole dare a Taormina? Per quanto riguarda Taormina diciamo che a mio avviso l'andamento è un andamento positivo nel senso che la presentazione della città e l'impostazione che in questi ultimi 15 anni soprattutto si è data alla città è un'impostazione corretta e il turismo è un turismo che cerca sempre più di essere un turismo di qualità una proposta interessante per il turista il problema del turismo a Taormina è più che altro risiede anche nell'inserimento contestuale all'interno della Sicilia che resta invece molto indietro e quindi non legata a quel flusso turistico di qualità che è quello che caratterizza Taormina ma invece resta ancorata a un'idea e anche a un'idea nell'immaginario collettivo del fruitore estero che è quella di un territorio profondamente disorganizzato e disordinato e purtroppo alcune volte è anche considerato abbastanza sporco e quindi diciamo poco appetibile dal turismo al tradiero E' tutto, ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia E' tutto, ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia